bella tutti ragazzi e benvenuti ad mio nuovo ad un nostro nuovo video è il primo facciamo insieme io sono xuder e io sono pami ma che bello che queste corone qua sopra di noi con i nostri nomi in tinta coi capelli meravigliosa ragazzi benvenuti a questi video noi siamo in vacanza ce la stiamo solazzando sì abbastanza dai ci stiamo divertendo abbastanza e abbiamo deciso ragazzi ma che bella con la piscinetta lì proprio tutta bella bella abbiamo deciso ragazzi visto che non sappiamo in realtà se riusciremo mai a fare live di sera oltre al video quello che vi mando su alle 13 di fare un video pomeridiano due versus due due versus due voi le amate a noi ci piacciono tanto io le amo quasi più di te no no io amo le due versus due allora ragazzi abbiamo preparato qualche deck faremo dei video contenenti delle partite 2v2 ragazzi e voglio subito andare a farvi vedere il mio deck poi vi dico il deck della pami come vedete ragazzi la prima ovviamente è dedicata ai nostri due deck main quelli che giochiamo in ranked metti il tuo deck così intanto lo vedo il mio lo sapete benissimo grider torre inferno quando tu clicchi le due versus due te lo fa vedere il mio eh sì ma lo devo vedere in un secondo volevo dirgli ai ragazzi un po' come funzionava cioè o grider torre inferno fireball moschettiere cavaliere spirito del ghiaccio mago di ghiaccio il mago ghiacciolo e zap questo è il mio deck quello della pami invece vuoi diglielo tu eh diglielo insieme al mio giant alle mie doppie streghe alla mia fireball alla princess alle frecce agli sgherri e mincega i miei arcieri ti ho messo gli arcieri ti ho messo gli arcieri no gli arcieri li uso eh ah beh allora se li usi questo non me l'hai cambiato il deck è il mio eh è il tuo deck amore mio mi raccomando non è facile non è facile vediamo se ti trovo tra gli amici vediamo se ti trovo tra gli amici dove sei dark lady dove sei prima a cercare di sì perché io purtroppo non posso più aggiungere nessuno negli amici mandami l'amichevole io non riesco proprio a vederti sai ah sì eccoti qua dark lady ah ok dark lady ti ha mandato un amichevole allora andiamo ad accettarla subito ragazzi il deck è questo dimmi che sei tu bim bim vanti così ragazzi ti doveva essere qualcun altro e non so sai che me ne mandano 100 milioni vediamo se parte innanzitutto vediamo se parte mi sa che c'ha già i grandi problemi di lag non che eh ma cazzo ma non è ancora partito salva tu salva tu ti prego oh shit oh porca vacca porca aspetta aspetta parte malissimo il primo deck cos'è successo cos'è successo oh mio dio oh mio dio non possiamo perderla non possiamo perderla amo non possiamo perderla vai calma 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 si è messi bene subito col giant tu vuoi aprire benissimo con la princess dietro arrivato col suino di l'amore mio tieni il tuo gente protea bene brava 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 che belle frecce andiamo a pulire andiamo a pulire andiamo a pulire bene così il giant e log rider ok amo e quelli come ci fermiamo e metto gli sgherri aspetta vai fai quello che vuoi fai quello che vuoi basta che metti qualcosa che fermo bravissima bravissima guarda il gigante che l'ha tirato giù praticamente la torre lasciamo perdere a sinistra rimaniamo sulla destra gliela palla fuoco io la princess ti lo libero io te lo libero io tu hai il gigante no la strega no non giocare non giocare non giocare non giocare c'è gli arcieri c'è la notturna potresti metto qua gli arcieri ma mettili dietro però dietro la nostra torre brava bravissima bravissima ok il mastino ci penso dopo io ci penso dopo io con la torre inferno non ti preoccupare è sprecata una torre a 38 con una palla di fuoco che costa 4 avanti con lo grad proteggimilo grider se riesci proteggimilo grider se riesci con la palla di fuoco più veloce più veloce dovevi essere va bene va bene bravissima però sembra sì hai preso il coso loro hanno giocato un mago elettrico credo amo aiuta no il mago elettrico il mago elettrico amo sul mago sul mago è dietro il coso dietro il coso no va bene la princess lì bravissima bravissima il mago amo il mago gioca qualcosa gioca qualcosa e dove è sta giuro strega ok bravo bravo ora vediamoci si difendiamo benissimo benissimo giocali 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 ok l'abbiamo difesa l'abbiamo difesa bene bene vado a tirare io log rider fa niente se la perdiamo fa niente se la perdiamo brava 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 andiamo a polla focale di là la zap inutile 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 peccato quando ti sale la parabè pap bravamo grande allora sto solo in difesa amo non possiamo perderla per ovvi motivi di live aspetta 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 ferma fermalo fermalo no 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 la perdiamo la perdiamo l'abbiamo persa l'abbiamo persa l'abbiamo persa amore mio l'abbiamo persa porca miseria porca miseria amo fai qualcosa ti prego ti prego fermali amo fermali cazzo hai un mazzo che costa 9 per forza non hai niente figa va bene va bene dai la prima no aspetta ma la prendo con quello che ci sta guardando ma anche tu sei una stega a giocare c'è anche da dire una cosa c'è anche da dire una cosa questa non valeva non valeva abbiamo cominciato il lag pesante rimandami l'amichevole dai la prima non fa niente la prima non fa niente perché abbiamo iniziato in maniera veramente obrobriosa vai mandami l'amichevole speriamo che non laghi adesso vediamo di riuscire a farne un'altra scusami non è che mi arrabbio con te però minchia rola non hai mai le truppe dai oh yes ce la facciamo ed è che non può assolutamente laggare ah io fermo l'81 bene bene che non lagga dark lady eccolo qua il suo deck ragazzi e lei e la pami grande la gente che ci guarda io cosa vuoi fare tu vai apri ci penso io qua ah mo devi aprire brava lasciamela a me qualcosa con la torre non ti preoccupare io ci mettevo davanti un giant mettiglielo 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 proteggiamo la strega proteggiamo la strega ci sta ci sta perché io gli metto già la torre bella si si approvo approvo assolutamente approvo assolutamente la princess dobbiamo in tutti i modi salvarla grande il mago di ghiaccio grande il mago di ghiaccio ferma 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 piano 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 c'hanno lo stregone ma non puoi giocare lì non puoi giocare lì gli sgherri che c'è dentro lo stregone ok easy la sua princess cosa vuoi fare benissimo 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 calma calma recupera tutto quello che puoi con calma io ho le frecce per la princesa perfetto hai il tronco no ok va bene va bene va bene non c'è problema non c'è problema allora abbiamo la torre inferno che devo giocare quando mettono un mastino io partirei con ogrider sulla sinistra tu me lo puoi difendere in qualche modo e se vuoi ci metto la strega no non mettere niente giochiamo gioca dietro la strega ti conviene eh ti conviene ci metto il cavaliere ok non fare niente non fare niente perfetto perfetto adesso lasciamo andare io adesso vado a destra con logrider eh vado tu attenta al giant hai le frecce sulla princess no no non lo fare non lo fare non lo fare non fare niente metti il giant metti il giant mettilo no 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 devi metterlo dall'altra parte il giant ovviamente ovviamente dall'altra parte allora come ti è venuto in mente di giocarlo di là il gigante aspetta stavo pushando a sinistra però è riuscito comunque andare a dare dei colpi attenzione di là ok le frecce purtroppo la princess mmm cosa vuoi fare no perché così avanti amo perché così avanti allora attenzione attenzione qua bisogna tirargli giù assolutamente il giant ok ok ci metto amo dobbiamo tirare giù il giant ho detto brava ecco gli sgherri sul gigante perfetto perfetto bravissima riparto io riparto io tu ai mana quanto ne minchia l'avrei tenuto dietro quel giant dobbiamo tirargli via la sua orda assolutamente assolutamente via l'orda via l'orda amo fai qualcosa con le frecce ti prego allora va bene con la strega allora va bene con la strega ok bene 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 dai che facciamo male qua c'è la palla di fuoco brava 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 perfetto difendiamo amo difendiamo che l'abbiamo vinta difendiamo che l'abbiamo vinta no no tra gli zizi finché no perché là gli arcieri tranquillo perché non li devi giocare a caso amo ho detto che dobbiamo difendere mancano 17 secondi brava brava bravissima bravissima non giocare niente non giocare niente dai non possono perdere gioca quello che vuoi gioca quello che vuoi alla grande alla grande e vai 3 2 1 grande andiamo a vincere la partitozza ragazzi la prima partita la prima allora non valeva la prima di quella prima perché ha laggato pesante la prima di quella non valeva laggato e non è che faccio apposta quindi amore mio direi che per questo primo video è davvero tutto ragazzi spero che i nostri deck vi siano piaciuti visti così lasciate un bel like se vi è piaciuto subito così ma non lo lasciano perché gli piacciamo tanto porca miseria ci stanno lisciando proprio pesante sì gli piacciamo e grazie ragazzi per tutti i like che ci lascerete noi andiamo a tuffarci come i delfini nella nostra piscinozza magari andiamo a farci anche una bella passeggiata sul lungomare se ti va e noi ragazzi forse ci vediamo stasera ciao